Iniziamo la giornata con una colazione salata super nutriente, non faccio quasi mai la colazione salata però oggi mi andava di cambiare e dato che avevamo i nostri avocado, quelli che ci aveva mandato dalla Sicilia un nostro amico, quelli che vi aveva anche fatto vedere Federica su Instagram, ho deciso di prepararli insieme a due fette di pane, quindi in versione salata con un pochino di sale e pepe e qualche semino, tutto quanto accompagnato da una tazza di tè. In una padella metto a tostare due fette di pane, questo è un pane casereccio integrale, molto buono devo dire, che ho preso alla copp, quindi le faccio scaldare e intanto mi vado a fare la cremina con l'avocado. Prendere la polpa, io ovviamente faccio sempre un casino quando faccio queste cose elementari, non lo so, non lo so perché i ragazzi sono così imbranata, ditemelo voi, vi prego! Perché tutto il mondo sbuccia l'avocado col pensiero? Beh io neanche contro i mani? Ok, adesso lo riduciamo in purea. Vado a insaporire con un pochino di pepe, un pochino di sale, pochino, questo ce lo buttiamo dietro le spalle che porta fortuna, e un pochino di limone. E mettiamo sopra il pane caldo. Sopra completo con due semini misti, giusto perché l'avocado non è abbastanza grasso. Infine vado a preparare il mio tè, aspetto qualche minuto che fa bene bene l'infusione e la mia colazione è pronta. Vado a preparare subito anche la mia merenda, quindi vado a mettere una bustina di tisana, questa è una tisana alla liquirizia, nel termos. Verso l'acqua calda, così ho la mia bevanda. sempre con me. Chiudo. Questa è la tisana che avete visto della Lidl nel video delle mie tisane preferite, non so se sarà già uscito, in ogni caso appena sarà pubblicato lo metteremo nella descrizione, ed è la tisana appunto della Lidl, squisita, davvero molto molto buona. E come merenda poi effettiva, vado a mettere in una bustina, così me la metto subito in borsa, una pera, e qualche biscottino. Questi sono dei biscottini al burro d'arachidi, che ha fatto Federica, diciamo che è una prova, quindi sarò la prima ad assaggiarli, e vi dirò se sono buoni, così magari ci faremo anche una ricetta. lì in carto, perché purtroppo non ho trovato una bustina più piccola. E voilà. Merenda impacchettata. Adesso mi vado a finire la colazione, questo ho metto tutto quanto in borsa, e sono pronta per andare. Per pranzo abbiamo fatto questi gnocchetti con la zucca, molto molto semplici, è un piatto davvero facilissimo, e anche piuttosto veloce, quindi se avete bisogno di un'idea easy per il pranzo, questa è un'idea che va benissimo, un'idea vincente, e sono davvero squisiti. Dunque, stiamo affettando la zucca, i pezzetti che aveva già fatto Fede, li abbiamo messi sul fuoco, io ho aggiunto un po' di acqua, perché poi la faremo bella cremosa, e un pochino di olio, adesso andrò a mettere un goccino di sale, e qua ho messo sull'acqua, che ora coprirò, altrimenti non bolle più. Ora che la zucca si è ammorbidita, la vado a rompere un pochino con la forchetta. Gli gnocchi sono pronti, li scolo, e adesso non ci rimane che mescolare tutto quanto, io ho aggiunto anche un pochino di pepe, il formaggio grattugiato, e andiamo. Guardate che meraviglia! Ed ecco qua il nostro pranzo pronto. Merenda super nutriente, con questo pudding ai semi di chia, al cocco, fatto con il latte di cocco, e cioccolato. sopra abbiamo messo anche un pochino di cocco, è squisito, è delicatissimo, e poi ho un debole per tutte le cosine, tutte queste cremine fatte con i semi di chia, che mi piacciono davvero da impazzire. Io utilizzo questa crema al cocco, però volendo potete farlo benissimo con del latte normale, anche perché questo ha davvero tantissimi grassi, sono 17 grammi di grassi per 100 grammi di prodotto, quindi è veramente molto nutriente, diciamo, e cercherò quindi di farci venire almeno due coppettine. al rimasuglio di crema che è rimasta qua dentro, vado ad aggiungere un pochino di latte, chiudo il barattolino e sbatto bene. Dopo circa una o due orette, questo è il risultato. Come vedete, è diventato bello cremoso, ho preso proprio una consistenza budinosa quasi, e adesso io faccio così. vado a dolcificare con un po' di miele, potete mettere qualsiasi altro dolcificante, e adesso ne vado a versare un po' nel bicchiere. A quello che rimane, aggiungo un po' di cacao, e vado a mettere sopra. E la mia merenda è pronta. Io sopra ho messo un pochino di cocco, qualche scaglietta di cocco, così per richiamare il latte, e volendo questi bicchierini, queste coppettine con il pudding di chia, mi correggete sempre sulle pronunce, potete farli benissimo per la mattina, quindi magari doppia dose, oppure se ve ne avanza un po', lo mettete in frigo, e il giorno dopo vi assicuro che è anche più buono. La cena di stasera saranno queste patate, sono le patate dolci americane, fatte a rosto in forno, ovviamente, con un'insalatona mista, e un hummus un po' particolare. Vi faccio subito vedere che cosa ho combinato. Ho sbucciato le patate, queste sono, come vedete, quelle lì dolci, americane, e adesso le andrò a fare a pezzettoni, e sono contenta questa volta, perché sono belle arancioni. Invece ultimamente mi sono capitate delle patate che erano praticamente bianche, non so se magari erano solo più vecchie, o non lo so appunto da che cosa dipende, però quando sono arancioni sono più contenta. Le vado a fare spicchietti così. Quando le taglierete, sentirete che sono molto più legnose delle patate normali, però in cottura in realtà si ammorbidiscono molto prima. Condiamo con olio, vado a mettere una puntina di allo in polvere, ovviamente sale, e ci vado a mettere anche un po' di cannella, che con le patate dolci sta benissimo, anche in versione salata. Questa è una cosa che fanno molto in America e devo dire che mi piace, mi piace davvero tanto come accostamento, non l'avrei mai detto. verso tutto quanto su una chiglia e in forno a 200 gradi. Intanto qui ho messo la mia insalatona, ho fatto una bella insalatona mista, qui abbiamo il cavolo cappuccio tagliato a fettine sottili sottili, purtroppo non ho trovato la mandolina e infatti al coltello mi è venuto un po' spesso. Carota julienne, insalata mista, questa è una misticanza con rucola, lattulino, songino e tante altre cose. E questi sono dei pomodorini, potrebbero sembrare la cosa più fuori stagione di tutto quanto, però mi li ha dati mia suocera ed erano dell'orto, infatti purtroppo l'ho tagliati tutti, non ve li potevo far vedere, però vi volevo far vedere che erano un po' toccati, un po' ammaccati, perché erano proprio dell'orto e sono tutti quanti gialli. Vedete come sono chiari? Molto particolari, molto carini. andrò ad aggiungere un pochino di semi, questi sono quelli di melandri, semi misti con zucca, girasole, lino e sesamo, che poi c'è anche scritto. vado a mettere anche un pochino di yogurt, ultimamente mi piace tantissimo come condimento nell'insalata. Vado ad aggiungere poi questo patè di alga marina, questo ce l'avevamo andato a Campise, avevamo fatto anche delle foto un po' di tempo fa, probabilmente qualcuno si ricorda, e è stato il prodotto che mi metteva più dubbi, a parte il patè d'aglio, vabbè, ma sapete che l'aglio io non lo amo, però ecco, questo patè non è che mi ispirava tantissimo. Invece è stata davvero una scoperta, è squisito, appena si apre il barattolino ha un profumo pazzesco e sembra tartufo, se me lo davano così, da odorare senza sapere che cosa fosse stato e avrei detto con certezza che era tartufo, infatti ieri, intanto lo aggiungo all'insalatone, infatti ieri l'ho portato a tavola, l'ho data a Giampaolo e se l'ha mangiato sui crostini, così, e ha detto ah, c'avevamo la salsa al tartufo, e ha detto no no, è patè di alga ulva, è buonissimo ragazzi, davvero non ho scoperta, e ne vado a mettere tre cucchiaini circa, e adesso mescoliamo bene bene tutto quanto, qua se ce l'avete ci sta benissimo un po' di tofu, saltato in padella, magari saltato direttamente con il patè, ci sta molto bene, io l'ho fatta qualche giorno fa l'insalatona con il tofu così rosolato ed era davvero ottima, così date anche un po' più di proteine, se magari mangiate soltanto un'insalatona ed ecco la cena pronta, qui ci sono le patate che come avete visto si sono abbrustolite perfettamente, hanno cotto circa 20-30 minuti, qui la nostra insalatona e qui ho fatto un po' di hummus con i pomodorini secchi, in realtà non è proprio un hummus perché l'ho fatto con i fagioli anziché i ceci, perché li avevo finiti i ceci, però è davvero molto molto buono e io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, come sempre mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima, ciao!